Come condividere un'immagine tramite telefono su pc grazie al bluetooth quindi in questo caso se avete problemi con la condivisione anche se condividete un file su pc però non riuscite a trovare l'immagine o qualsiasi documento che avete inviato tramite telefono con il bluetooth quindi in questo caso in questi pochi minuti ti spiego come fare. Quindi in questo caso andiamo prima sul nostro bluetooth ovviamente se avete bluetooth sulla scheda di rete oppure una chiavetta io per esempio ho la chiavetta usb bluetooth dispositivi bluetooth attiviamo così il bluetooth sul nostro telefono aggiungiamo il dispositivo bluetooth ed eccolo qua aggiungi un dispositivo questo è il telefono faccio connetti faccio associa anche telefono ed eccolo qua l'abbiamo connesso fatto in questo caso una volta fatto possiamo anche chiudere la scheda dei dispositivi cliccare direttamente sul bluetooth tasto destro sopra e fai direttamente ricevi un file ed eccolo qua in attesa di connessione Ora andate sul vostro telefono andate nella galleria o in una cartella quindi andate sul vostro file fate direttamente invia quando volete condividere un vostro file c'è scritto instagram whatsapp telegram bluetooth copia in corso google maps messaggi gmail tutte queste cose qua pdf E' sempre qua c'è scritto quindi invia tramite bluetooth clicco su bluetooth sul telefono cerco così il dispositivo invio dei file a tony game 17 questo qua Ed eccolo qua ora ti fa scegliere il percorso file dove salvare l'immagine quindi faccio sfoglia e clicco su desktop faccio ok e faccio fine ed eccolo qua una foto Della vendola del computer Ed ecco che da telefono ho la stessa dimensione quindi dimensione 3840x2160 quindi te l'hai inviato tramite proprio come l'hai fatta la foto sul telefono su pc Se invece provi a inviarla tramite whatsapp telegram la riduzione della dimensione diminuisce quindi te la manda sfogata con una risoluzione ridotta Quindi se questo video ti è stato utilissimo come condividere un file una foto un documento tramite telefono con il bluetooth su pc Iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao